La mia è una città che va curata continuamente, sono stato in Australia, era il paragone, era come andare una ragazza diventando. Venire a Venezia tu vai con una signora abbondantemente con l'età, però per me è una città come una signora che va coccolata, va curata, va seguita, cioè non abbandonata a se stessa perché ha mille anni, anzi solo perché ha mille anni va curata e seguita molto attentamente. Questa per me è la sensazione che mi dà la città e di fatto ho il massimo rispetto per la città, meno per i veneziani ma per la città. che marca? Anche se camminando riesci a vedere molto, perché per una persona che sta qui qualche giorno sei uno che si addentra, è molto bello. Però è molto più bello, secondo me, girare per i canali. Per me è meraviglioso perché intanto, diciamo, conoscere Venezia nell'acqua città, è completamente diverso. I canali, quando appunto non ci sono movimenti di altre immaginazioni, è meraviglioso perché nei silenzi, quelle vocerie che senti fra le case, i campi che passi, quelle cose là, è proprio Venezia, è vivere di Venezia. Pagando! Pagando! Oh no Nee! Pagando! check out le privac importanti devolo chi siamo in grado, chi c'è quello! Che scrisate! Ciao! Salve!